Studio in Sol. Siamo alla pagina 23 del nostro primo libro e troviamo per questo piccolo brano di otto battute una nuova posizione, che potremmo chiamare la terza posizione. Noi abbiamo già visto la prima, seconda posizione, questa la possiamo chiamare la terza, ma da qui in avanti le mani avranno spesso posizioni diverse, quindi non staremo più a dare un numero per ciascuna posizione diversa che troviamo. Dove vanno sistemate le mani? In questa immagine, in questo disegno, si vede abbastanza chiaramente. Sia la mano destra che la mano sinistra devono stare sopra alle stesse note, cioè Sol, La, Si, Do, Re. Il mignolo della mano sinistra fa sul Sol e così via un dito accanto all'altro, un tasto accanto all'altro. Come riferimento possiamo vedere che il dito numero due, l'indice della mano sinistra, deve andare sul Do centrale. Poi ci sono i due soliti spazi vuoti e la mano destra, anche lei, su Sol, La, Si, Do, Re. Quindi la posizione di partenza è questa, l'indice sul Do centrale, Sol, La, Si, Do, Re, Sol, La, Si, Do, Re. Allora, il brano di per sé non è estremamente difficile, dobbiamo vedere alcune note nuove. La mano sinistra ha una sola nota nuova, che è questa, il Re, che finora non abbiamo mai trovato, perché la posizione della mano sinistra poteva essere o questa o questa, e questo Re, quello che sta a destra rispetto al Do centrale, la mano sinistra non aveva mai avuto bisogno di suonarlo. Ecco come si riconosce il Re, semplicemente perché il corpo, il pallino nero della nota sta al di sopra appoggiato sulla linea che invece per il Do centrale sta proprio nel mezzo. La lineetta con il Do centrale taglia in due la nota, il Re invece ci sta appoggiato sopra, quindi cosa vuol dire? Il Re sta più in alto rispetto al Do e più a sinistra sulla tastiera. Tutto quello che viene scritto più in alto sul pentagramma, sul rigo musicale, nella tastiera ci risulta più a destra, infatti il rigo della destra sta sopra, è più in alto rispetto a quello della sinistra, e questo è una constatazione, è così da sempre, da quando esiste la scrittura musicale e da quando esistono le tastiere. Per la mano destra abbiamo più note da imparare a riconoscere. La mano destra fino adesso è sempre rimasta in questa posizione, con le dita sopra Do, Re, Mi, Fa, Sol. Adesso che si sposta in questa nuova posizione abbiamo da imparare a riconoscere le note La, Si, Do, Re. Sono scritte qui, ma sono scritte anche qua, sono esattamente le stesse note. Quindi questo è il Sol che noi ormai abbiamo già imparato a riconoscere. La, Si, Do, Re. Un po' alla volta, mentre le suoniamo, possiamo anche ripeterle a voce alta per riuscire a imparare a riconoscerle il più velocemente possibile. Altre indicazioni. Dobbiamo contare fino a 4, quindi mentre suoniamo, contiamo mentalmente, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e così via. Noi contiamo fino a 4. In questo caso, mentre la mano destra tiene premuto il tasto per tutto questo tempo, la mano sinistra avrà quattro note da suonare. Quindi ormai abbiamo già un po' imparato a riconoscere queste situazioni. Il simbolo della mano destra, cioè questa nota della mano destra, vale tanto tempo, cioè dura tanto tempo quanto tempo serve alla mano sinistra per fare tutte queste quattro note. E qui succede la stessa cosa. Possiamo, volendo, possiamo fare l'esempio del gelato. Se io mi compro un gelato da 4 euro, uno solo, da 4 euro, e un mio amico si compra quattro gelati da un euro ciascuno. Se immaginiamo di mangiare il gelato con la stessa velocità, io impiego per mangiare il mio gelato tanto tempo quanto impiega il mio amico a mangiare i suoi quattro gelati. Perché è vero, lui ne ha quattro, ma sono piccoli, sono da un euro soltanto. E io ne ho uno solo, ma è grande, perché è un gelato da quattro euro. Per cui, se iniziamo insieme, finiamo insieme. E lo stesso vale per le note. Una nota sola, ma che dura quattro numeri, oppure quattro note che durano un solo numero ciascuna. Iniziano insieme e finiscono insieme. Ultima cosa, dopodiché si passa a suonare. Qui abbiamo un diesis scritto all'inizio del pentagramma. Se guardiamo con attenzione, vediamo che è scritto sopra la linea della nota fa, sia per la mano destra che per la mano sinistra. Questo cosa vuol dire? È un promemoria. Il libro, il compositore, mi stanno dicendo, attenzione, ti devi ricordare che se trovi nel brano che stai suonando dei fa, li devi suonare diesis, quindi non sul tasto bianco, ma sul tasto nero. Ora, qui noi siamo abbastanza tranquilli, perché se guardiamo bene dove stanno le mani, noi il fa neanche dobbiamo suonarlo. Il fa è questo, ma noi neanche abbiamo le dita sopra al fa, perché non ci serve, quindi non dobbiamo poi prestare grande attenzione. Ma allora cosa vuol dire? Vuol dire che in un caso futuro, se magari troveremo un brano dove dobbiamo usare più note e dovremo usare anche il fa, dovremo ricordarci di non suonare questo fa sul tasto bianco, ma al suo posto questo fa, il fa diesis sul tasto nero. In più ci vuol dire anche un'altra cosa, e questo dà la spiegazione a questo titolo. Un fa diesis è un messaggio in codice, perché la scrittura musicale è piena di codici, e un po' alla volta, con un po' di pazienza e con l'esperienza, impareremo a riconoscerli e a decifrarli. Un fa diesis ci dice, guarda, in questo brano che stai suonando, la nota più importante è il sol. Ecco perché c'è questo titolo studio, in sol. Il sol è la nota da cui si parte, la destra e anche la sinistra partono, iniziano a suonare dal sol, poi ritornano sul sol. Anche la sinistra parte dal sol e ritorna sul sol. Il sol è l'ultima nota con cui finisce il brano, sia per la destra che per la sinistra. Avremo altre occasioni anche in futuro di vedere situazioni come queste, dove un diesis oppure un bemolle o più diesis o più bemolli ci comunicano che c'è una nota più importante rispetto a tutte le altre. Quindi studio in sol con le due mani. Quindi vediamo che qua in fondo la mano destra ha queste due note legate. Questa legatura ci dice che due note diventano una nota soltanto, che dura 8, cioè 4 più 4. Infatti io ho suonato questo tasto, questa nota, e ho ottenuto il tasto premuto fino alla fine, finché la sinistra non ha finito di suonare tutte le sue note e il brano si è concluso. Risuono ancora una volta dall'inizio alla fine, suonando un po' più lentamente e contando ad altavoce. 3, 4.